L'assessorato regionale al lavoro, in collaborazione con Sviluppo Campania, ha presentato nella sala convegni dell'Isola 6 del centro direzionale l'evento Farsi impresa 2018, Ricomincio da me, intraprendo il lavoro. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati dei diversi interventi messi in campo dalla regione per favorire il reinserimento occupazionale anche dei soggetti espulsi dai processi produttivi, attraverso programmi di riqualificazione, di incentivazione all'assunzione, di sviluppo di autonomia imprenditoriale. La provincia più propositiva è stata Napoli con 53 attività finanziate, seguita da Caserta con 26, Avellino con 22, Salerno con 19 e Benevento con 9. In un momento in cui si parla esclusivamente di assistenzialismo noi invece giriamo proprio pagina, invece diamo la possibilità a tutti coloro che sono ex percettori di ammortizzatori sociali, attualmente senza reddito, di aprire il loro cassetto dei sogni e diventare imprenditori. Lo facciamo, lo stiamo facendo già per le prime 130 persone che hanno aderito a questo progetto e che sono state accompagnate da Sviluppo Campania nella redazione del Business Plan, quindi oggi festeggeremo insieme a loro la nascita di ben 130 aziende da persone che hanno ricominciato finalmente la costruzione di un percorso personale e professionale. Le risorse sono messe in campo dalla regione, per adesso sono 4 milioni, ma noi contiamo di rifinanziare sicuramente la misura perché è andata benissimo, sono arrivate tante, tante, tante istanze da tutta la regione. Questa è la riprova che la voglia di mettersi in gioco ancora c'è anche da chi purtroppo è fuoriuscito dal mercato per cause sicuramente non aducibili a se stesso. Beh, vi stupirà sapere che le donne sono in numero superiore alle aziende nate dagli uomini.